Si è svolto ieri ed oggi il convegno organizzato tra Lega Coop Ravenna, Lega Coop Emilia Romagna e Fondazioni Ivano Barberini dal titolo Sviluppo e rappresentanza degli interessi, il ruolo delle associazioni ieri ed oggi. Stiamo festeggiando il sessantesimo dalla fondazione della Lega Coop della provincia di Ravenna, nata il 10 giugno del 1950, anche se noi siamo molto più antichi perché la prima associazione nacque nel 1883, poi la federazione delle cooperative nel 1902. Abbiamo in questi 60 anni svolto un ruolo di rinnovamento e di governo del nostro territorio con un'idea di imprese che sempre si sono evolute ma anche del concetto della diffusione della cultura del fare insieme quale essenza per uno sviluppo qualitativo e di coesione sociale dei nostri territori. Per il futuro ancora di più nella grande crisi che stiamo vivendo bisogna fare insieme. I sistemi associativi, le rappresentanze devono fare uno sforzo per rappresentare singoli interessi ma per saperli mettere insieme. Mettere i progetti delle imprese, le nostre associate e quelle delle altre imprese rappresenta la nuova frontiera del fare insieme, il che significa che possiamo fare squadra, possiamo fare sistema per competere imprenditorialmente e culturalmente nel mondo.